Ciao ragazzi, sono Pantellas e benvenuti alla nostra seconda FOOTBALL CHALLENGE Ragazzi, oggi ospiti sensazionali in squadra con noi abbiamo Leonardo De Carlo Eccolo! L'abbiamo comprato dalla zona dell'Ucidente Anch'io sono uno dei Pantellas E abbiamo dei rivali di assoluto livello, signore e signori I MADE! Sono sorelle! Maia! Maia! Suri, ti sei già infortunato! E' bene, siamo un 3 contro 3 Sì, ma noi ne manca ancora ragazzi E' vero, i MADE e Leonardo sono guest importanti Ma la guest più importante di tutti La più grande web star italiana LUIGINO IL PORTIERINO! Noi ragazzi, non perdiamo tempo Che la sfida abbia inizio Dai, abbiamo vinto Brava, ha preso quel campo Da questa sfida mi aspetto di perdere Come sempre E punterò anche a fare il montolivo della situazione Cioè entrare in campo E tipo rompermi qualcosa dopo pochi minuti Botte, sangue, qualche mossa di wrestling Sicuramente Suri non segnerà neanche un voglio Io ho paura di queste cose raga Non faccio sport Ma in realtà Dalla sfida mi aspetto di non cagarmi addosso Che per me è già una gran vittoria Col freddo che fa sempre di essere in Siberia In realtà non mi aspettavo un match Mi hanno detto che andavamo a mangiare a una comunione Vedendo l'altra challenge E non mi aspetto nulla Mi sono colato qua in mezzo alle montagne Giochiamo e vediamo che vinci Io sapevo già di avere la vittoria in pugno Ma Luigi il portierino chi è? Dalla sfida mi aspetto di vincere Perché io e Pantellas non hanno mai vinto Se fosse su FIFA sarebbe bugato Non mi pagano per questo Visto che abbiamo studiato calcio sin da piccoli Quando eravamo così Siamo una squadra veramente fortissimi Abbiamo deciso di fare un 1-1-2 I miei compagni di squadra Penso che abbiamo preso Leonardo Che è un grande acquista Quattro volte ha vinto Quindi è bello carico Allora io seguo tantissimo i mates Quindi sono molto contento di giocare insieme a loro Daniel è quello che è sempre Piggiorato ulteriormente l'anno scorso Quindi la vedo molto dura Alessio della Santa purtroppo Non fa più i video con noi Perché si è sposato E sua moglie l'ha segregato in casa Nella nostra squadra c'è un piccolo problema Secondo me ragazzi La mia squadra Surri Ripone tanta fiducia in me Però l'abbiamo motivato bene So che mi vogliono bene E sono sicuro che Chi ha pagato il biglietto Tornerà soddisfatto a casa Ma il grande acquisto dell'anno È Luigi il portierino I miei compagni di squadra Penso siano molto deboli Che è il Donnarumma del Ghana Però con me in porta Vinceremo di sicuro Che vinca il migliore Ovvero noi Sono Luigi il portierino E davanti alla mia porta Ci metto un pulmino I am the one The way your time Don't need the guns To get respect upon the street To get respect to the guys Ti avanti già No ragazzi Dai ma non mezzo Giro Giro Vai Sei saltato Dai 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 Tu che cazzo vai Dai Aia! Alla! Sì la lagna! Sì la! Sì! Oh! Aia! 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 Due! Aia! Due cosa stai facendo? Non lo so! Cosa faccio invece? Capi che cosa ho fatto! Capi che cosa ho fatto! Sì! Sì! Aia! 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 I sportieri oggi! Lenzo! Ma io sono dipeso! Uno di noi! Anima uno di noi! Uno di noi! Finchè no! Io voglio bene i montelli! Sono! Sei in tempo! Aia! Aia! E' più facile! Aia! Lo abbiamo fatto ragazzi! Ehi! Aia! 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 Non dire le parolacce! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vai Luigi, vai Luigi. No, 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 no. Vai, Leo! Sì! L'ultimo rigore, Luigino, il porterino! Non ci credo, è la prima challenge che vinciamo senza parare pure! Mamma mia, ragazzi, pagando ma senza parare! Era già parare un po' pieno! Andiamo a fare boxe e prendiamo Mike Tyson, dai! Bene, ragazzi, per la prima volta nella storia i Pantella svincono la loro challenge e adesso, come penitenza... Gli prendeva pallonate nel culo! Tutti i mates! L'abbiamo preso, ciao! L'abbiamo preso! Oh no! L'abbiamo sfiorati tutti e non abbiamo preso nessuno! E' il Pantella sfogato il pranzo! Ciao ragazzi, siamo il Pantella, se questa era la football challenge! Se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su e ha... 250.000 like! Eeeh! Dirà un guapo video! Noi vi ringraziamo tantissimo per averci seguito anche questa settimana e ringraziamo soprattutto i mates e Leonardo De Carli per aver partecipato con noi Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! E' lui che mi ha fatto vincere! Il giro! E' il Pantella, il Pantella... Esatto! E ci vediamo prestissimo con tanti nuovi video eeeh... Un saluto a tutti e ehm... Ciao a tutti, se siete arrivati a questo punto del video commentate con cacciottellas, qua sotto, ricordi con me, io te lo lascio proprio, raga, io Suri lascio qua, Suri uno di noi, uno di noi, e Suri uno di noi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.